che perfetto che poi anche ora ma che io ho un posto c'è se lo sai oggi sono entrato una nuova compagnia della luce stessa per telefonare la mattina no perché è così perché passano bene e io non ho neanche filmato niente c'è che forse ma c'è una possibilità di non pagare il fatto di farla a zero ma sai che sto pensando la signora ma che pensa la libertà no ma tu non la mia moglie a giro paga no allora se non aveva contanti non faceva spesa oppure se non c'aveva un'altra carta sua non faceva la spesa perché allora sono obbligato a venire a te cioè perché cazzo cioè io ho soldi in banca e non posso pagare provano in continuazione stanno cercando di poco di ora si mettono le cibi di cilindri sarebbero central bank central bank digital card si sarebbero l'euro digitale con la stessa tecnologia di bitcoin su quanto sta fare questa è la truppa più grande da un po questo è il concetto con tante libertà il gioco libertà si non capiscono meno santi ora decidiamo se non è stringente e se uno vuole soldi vuole utilizzare soldi se vuole le carte ma a parte quello no ma io c'ho soldi sul conto ok allora più di quelli totti in un giorno non li posso perdere già mi punti la fava perché anche le banche possono stare aperte se prestano soldi e perdono l'interesse sui soldi se si paga in contanti ma infatti si ho capito ma no però ragionamento è questo allora già va bene ok c'ho soldi di io ti dirò vabbè finché ce l'ho posso spendere ma che cazzo mi pare che ce l'ho io c'ho capito io poi dici mille euro mille euro mi fa nel 2000 una carta no per una famiglia che fa la spesa altre quattro puttanate no mille euro che ci fai ci fai una sega in un mese mille euro quando sei andato una volta al dentista cinque volte a fare la spesa hai già finito mille euro c'è capito e dopo che fai io che faccio dopo una puttanata stronzate guarda vabbè non c'è problema tanto quando comincio a far flusso di contantino forullini no 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 Grazie.